Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno a voi di Social Podcasting. Sono Alessandra Corbetta e oggi per Alma Poesia vi leggo un inedito, dinunzio buono, dal titolo Altro Giro di Tempo. Il calendario suona ancora a quel giorno. Ad ogni giro di tempo lui scende e mi cammina negli occhi. C'è un poco di tutto e un poco di incedere lento. L'assenza rilascia lo specchio di voce. Prima non voce. Lo sguardo fugace che dice. Ho preso il tuo sguardo dalla rosa nell'acqua che esangue di quando la festa correva di vita. Ora che dal lago mi resta assopita solo quell'ombra del cielo che parla sull'acqua. Social Podcasting. Your Digital Friends.